Pari e patta tra penne il Delfino Curi Pescara con Di Stefano che nel finale risponde a Guerra per l'1-1 definitivo rivolgendo i nastri 4-2-3-1 per Aielli con Di Fazio, Cutigli e Fulvia alle spalle di Guerra con Bonati che invece risponde con Gobbo, Di Giovacchino e Massa, terminali offensivi pronti e via ed il penne si rende subito pericoloso al nono Cutigli viene liberato in aria, destro a cui Calore risponde da campione, passano due giri di lancette, uno a due micidiale Fulvi Guerra passaggio all'indietro con Guerra che da pochi passi complice una deviazione, batte l'estremo ospite per l'1-0 il Delfino Curi Pescara alza il baricentro, si rende pericoloso prima con Di Giovacchino che ci prova dal limite poi il pallone viene deviato in corner, poi Massa che tira a giro dal limite e richiede ad Amico un vero e proprio miracolo per evitare l'1-1 alla mezz'ora si accende Guerra, Slalom dai 20 metri, destro che Sibila vicinissimo al palo alla sinistra di Calore poi ancora il numero 10 che ci prova al volo, ancora all'estremo locale a rispondere con le immagini di Carlo Micheli passiamo alla ripresa con Massa che gli arbori della frazione semina il panico e ci prova da 18 metri ancora da Amico in corner gli ospiti crescono al tredicesimo, Di Giovacchino si libera in area, tiro cross disindescato dall'estremo locale poi punizione dalla sinistra pallone che attraversa tutta l'area con il Sabatini che sul secondo palo correggere in rete ma viene ravvisata una posizione di offside per vedere una nuova occasione bisogna attendere 20 minuti siamo precisamente al quarantesimo quando da un calcio di punizione dei 25 metri di Stefano con una rasoiata terrificante, batte da Amico e fa 1-1 finale rovente, entrambe le formazioni vogliono i tre punti al quarantottesimo Barlam se ne va sulla sinistra, cross dentro con una deviazione ospite che per poco beffa Calore al cinquantatresimo, punizione dei 20 metri per il Delfino Curi Pescara sul pallone va lo stesso Di Stefano che però c'entra la barriera termina dunque così, tutto sommato un pari giusto tra due compagini che ci hanno provato fino alla fine Penne, il Delfino Curi Pescara 1-1 Mi aspettavo assolutamente, siamo stati bravi sia tatticamente sia sotto l'aspetto dell'intensità e sapevo che era una squadra difficile sappiamo tutti che è una squadra che ha preso pochissimi gol è vero che ne ha fatti anche pochi ma mi aspettavo questo tipo di partita quindi è una squadra molto equilibrata quindi sotto questo punto di vista sì c'è un po' di rammarico perché si poteva fare qualcosa in più ci siamo bruciati qualche giocata fatta bene però è andata così è giusto perché il Penne ci è stato superiore per gran parte il primo tempo se non per tutto il primo tempo e nel secondo tempo per fortuna la squadra si è ricompattata e ha fatto veramente un gran secondo tempo dove probabilmente si sono visti tutti i limiti e tutte le bravure e le qualità della squadra perché abbiamo giocato secondo me bene fino agli ultimi 20 metri dopodiché probabilmente se non facciamo gol su punizione non segniamo nemmeno questa domenica e probabilmente se invece facciamo un gol probabilmente andiamo anche a vincere la partita è chiaro che poi la somma di queste due cose fa sì che rimane un incompiuto al secondo tempo e andiamo a pareggiare anche nel momento più difficile perché poi il tempo passava è per assurdo, potremmo anche cominciare a nervosirci e a offrire il fianco a dei contropiedi che invece abbiamo controllato e quindi alla fine credo che abbiamo meritato il punto secondo me noi non dobbiamo riscattare nulla cioè noi abbiamo 14 punti dopo 10 trasferte ok perché poi io non mi lamento mai giustamente poi dopo 10 partite sento cose, sento che bisogna riscattare ma che cosa? noi ci dobbiamo salvare all'ultima giornata all'ultimo minuto del campionato noi abbiamo fatto 10 trasferte abbiamo fatto 14 punti ditemi se c'è una squadra che in 10 trasferte fa 14 punti una squadra fatta per 8 partite su 10 di 7 fuori quota in campo che non ha un campo dove giocare in casa che non ha un centravanti perché ne avevamo uno che ha deciso di andare via grazie, lo ringraziamo anche di questo che ha fatto noi siamo soli contro tutti con un presidente solo che porta avanti tutto quanto sinceramente dico grazie a lui dico grazie ai giocatori a tutti quelli che ci sono perché quando vedo la classifica e vedo delle squadre che spendono il triplo di noi e stanno dei punti dietro dico che noi non dobbiamo riscattare proprio niente noi siamo una bellissima squadra che può retrocedere perché in questo campionato fatto pieno di squadroni se il Penne che è una squadra eccezionale che è una grande tifoseria è una bellissima società che li sostiene sta in difficoltà in questo momento dietro di noi allora dico che noi non dobbiamo riscattare proprio niente